Ci sono dei momenti storici in cui possiamo permetterci molti di distinguo e di fare anche tante discussioni sulle scelte necessarie da fare, ma quando ci sono centinaia di morti al giorno, la scuola che fa fatica a ripartire, l'economia in ginocchio e tanta sofferenza, soprattutto tra i più fragili della nostra società, allora bisogna avere la lucidità di dirci che ci sono delle scelte che sono etiche e delle scelte che non lo sono. Perché il vaccino in questo momento è sì una scelta individuale, ma ha delle ricadute sulla collettività e sul destino condiviso che stiamo in questo momento vivendo. Quindi in questo momento abbiamo bisogno tutti di fare una scelta che è etica e che riguarda il destino di tutti. Se c'è una cosa che dovremmo aver imparato in questo momento difficile è che o ci si salva insieme o non si salva nessuno. Ecco perché non è il momento di chiudersi in gusci individualisti, negazionisti, ma è il momento di fidarsi gli uni degli altri, fidarsi delle istituzioni, fidarsi della scienza e soprattutto di essere responsabili. Grazie. Grazie.